80 kg di pesce trasportati nel cofano di un'auto sono stati sequestrati presso la litoranea di Campolongo. Ad effettuare l'operazione la Polizia Municipale di Eboli, che ha scoperto i contenitori nel vano posteriore della vettura, guidata da una persona residente nell'agro nocerino e priva di copertura assicurativa. Il pesce, analizzato e giudicato in buone condizioni, è stato regalato ad una parrocchia che lo devolverà ai poveri. Grazie a tutti.